Il toxoplasma ha preso sempre più piede ed interesse negli ultimi 15-20 anni perché da sempre si pensava che il toxoplasma gondi fosse un parassita che quasi quasi fosse meglio albergare piuttosto che evitare perché in questo modo si poteva mangiare qualsiasi cosa nel caso delle donne in gravidanza. Poi in realtà ci si è resi conto che appunto poteva causare dei disturbi neurologici neuropsichiatrici molto importanti e soprattutto ci si è accorti che genotipi atipici davano delle manifestazioni cliniche molto importanti anche in soggetti immunocompetenti. E su questo vi pregherei di tenere la vostra attenzione piuttosto alta perché poi di questo parleremo anche a fine presentazione. Tornando quindi ovviamente a rischio per l'uomo, l'uomo come fa a infettarsi? Attraverso diverse vie, però è stato stimato che effettivamente nel 30-63% dei casi l'uomo si infetta attraverso il consumo di carne cruda o poco cotta. Come fanno quindi questi animali ad infettarsi? Si infettano esattamente come ci infettiamo noi, quindi o attraverso l'ingestione di ocisti sporulate che contaminano i prati, che contaminano i pascoli, i mangimi che possono essere trasportati anche dagli insetti che si diciamo così fanno da vettori meccanici. Oppure nel caso per esempio dei suini, questi vanno a mangiare magari dei piccoli riditori che sono a loro volta loro stessi infettati e quindi ovviamente si infettano anche i suini. Quindi appunto da qui il fatto che appunto è stato definito che soprattutto nei paesi cosiddetti sviluppati il maggior rischio di controllare la toxoplasmosi per l'uomo derivi proprio dal consumo di carne. Quali sono quindi questi fattori di rischio che devono essere valutati in allevamento soprattutto? Beh, indubbiamente la presenza di gatti è un fattore di rischio importantissimo così come anche la presenza di roditori. Poi abbiamo la dimensione dell'allevamento, un allevamento più piccolo è sicuramente di più facile gestione rispetto a un allevamento di grandi dimensioni. Ma anche, e vi faccio notare appunto qui in fondo nella slide, la posizione e l'altitudine a cui si trova l'allevamento è importante. Infatti è stato dimostrato che la seroprevalenza nei suini tendeva a essere maggiore in quegli ambienti, in quei luoghi, in cui la temperatura media annuale era più elevata e la latitudine invece più bassa. E infine ovviamente abbiamo l'allevamento intensivo, quindi un allevamento chiuso con dei sistemi di biosicurezza sicuramente molto elevati versus l'allevamento estensivo, l'allevamento all'aperto che consente ovviamente all'animale di uscire, di avere un contatto con l'esterno e quindi con agenti patogeni, fra cui ovviamente anche toxo, che conferisce però e consente ovviamente una migliore condizione di welfare e di benessere per l'animale. È stato poi valutato, siete poi valutati diciamo così quali potessero essere effettivamente le carni diciamo così più pericolosi per l'uomo. Per fare questo è stato preso in considerazione una serie di variabili, fra cui la diversa tipologia di allevamento, la quantità di carne che viene normalmente diciamo così consumata e ovviamente anche le abitudini alimentari. Queste normalmente molto influenzate anche da fattori culturali e regionali. Quindi fatta appunto questa analisi, Dubini nel 2010 presenta questo lavoro in cui appunto dice che la carne più pericolosa, passatemi il termine, è quella di pecore e di capra, seguita dalla carne di maiale, di pollo, poi troviamo il cavallo, il bovino e la carne degli animali selvatici. Per quanto riguarda il bovino dobbiamo aprire una piccola parentesi. Infatti c'è questo appunto, questa sorta di teoria in cui, diciamo così per cui, per la quale i bovini sembrano essere in qualche modo resistenti a toxoplasma godi. Infatti, allora la seroprevalenza in realtà è molto variabile nel mondo, è stata registrata una seroprevalenza che va dall'1 al oltre il 90%. Però, diciamo così, a parità di seroprevalenza, nei bovini abbiamo un minor numero di cisti tessutali rispetto ad esempio al maiale e alla pecora. Questo però non significa che queste cisti non siano vitali o infettanti, anzi lo sono, è stato dimostrato da Obstek in un lavoro del 2016. Però effettivamente, se noi andiamo ad analizzare anche la carne di questi animali, la prevalenza è notevolmente più bassa rispetto al suino o appunto alle pecore. Quindi, che cosa, diciamo così, sia un attimo concluso? Quello che si è concluso è che sicuramente dal punto di vista dell'epidemiologia di toxoplasma gondi, il bovino ha un ruolo sicuramente più, diciamo così, limitato rispetto ad altri animali. Però dal punto di vista invece dell'epidemiologia umana, la carne di bovino ha sicuramente un ruolo molto importante, perché viene consumata praticamente in tutto il mondo, in grandi quantità e molto spesso viene consumata cruda e poco cotta. Tant'è che infatti in questo lavoro del 2011, che è un quantitative risk assessment, è stato dimostrato che in Olanda quasi il 70% dei casi di meatball infection causati appunto da toxoplasma gondi, nel 70% dei casi questa era correlata al consumo di carne di bovino crudo o poco cotto. Passiamo ora a vedere come effettivamente noi possiamo diagnosticare la presenza di toxoplasma gondi negli animali. Ovviamente distinguiamo una diagnosi diretta da una indiretta. Nella diagnosi diretta noi andiamo a ricercare l'affettiva presenza del parassita o del suo DNA e possiamo ad esempio andare a identificare le ocisti nelle feci del gatto attraverso una flottazione, oppure utilizzare la microscopia o l'istologia per andare a identificare tachizoiti e anche ovviamente cisti tisutali e cerebrali. Possiamo andare a isolare il parassita in vitro su monostrati cellulari, ovviamente ci viene in aiuto anche la biologia molecolare. Ad oggi però l'unico modo per dimostrare non tanto la presenza del parassita quanto la sua vitalità e effettività rimane ancora il bioasse. Il bioasse è il nostro gold standard. Per quanto riguarda invece la ricerca indiretta parliamo quindi di serologia attraverso la ricerca di antigeni ma molto più spesso di anticorpi, quindi di una risposta anticorpale. Sulla serologia vi ho aperto questo focus per mettere in evidenza che effettivamente non sempre a serologia positiva corrisponde all'effettiva positività e comunque presenza di cisti tisutali. Infatti questo dipende molto dalla tipologia di animale. OPSEC ha dimostrato, ha visto che effettivamente c'è una buona correlazione fra una seropositività e la presenza di cisti per quanto riguarda il maiale e il pollo. Si abbassa leggermente per quanto riguarda le pecore e le capre e invece abbiamo una bassissima correlazione nel cavallo e nei bovini come già visto poi in precedenza. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che ci sono i cosiddetti serological non responders ovvero casi di animali che magari producono una bassa quantità di anticorpi che non è rilevabile dal sistema diagnostico utilizzato ma che comunque appaiono siero negativi ma che possono effettivamente presentare comunque delle ciste a livello tessutale. E questo è stato visto sia nel maiale che nella pecore e nella capra. Quindi quando noi abbiamo effettivamente un animale siero negativo non possiamo dire con assoluta certezza che quella carne, la carne che deriverà da quell'animale, sia effettivamente toxo free. E questo ovviamente è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione. Ritornando poi a diverse metodiche che noi utilizziamo, quindi serologia e biologia molecolare che sono quelle che utilizziamo di più, ovviamente ci sono dei limiti. Nel primo caso la serologia abbiamo diverse metodiche disponibili e quindi diverse tipologie di risultati che difficilmente a volte possono essere paragonate e affrontate fra di loro. Il problema della cross-reattività che può capitare soprattutto nel caso di coccidi molto simili fra di loro e il problema della validazione dei test. Infatti non sempre riusciamo appunto a determinare sensibilità e specificità proprio perché manca un gold standard vero e proprio. Anche il bioasse non risponde comunque molto bene quando facciamo questa tipologia di test. Per quanto riguarda la biologia molecolare, anche qui abbiamo diversi target utilizzati, più diffusi il 529 e il B1, ma molti molti altri. Qui abbiamo il problema del tessuto che deve essere utilizzato per estrarre il DNA. L'ideale sarebbe avere il cervello e il cuore perché sappiamo essere quelli diciamo così in quella concentrazione di cisti tessutali più elevata, però non sempre sono a disposizione. E ancora la quantità di materiale che possiamo utilizzare per fare estrazione di DNA è comunque una quantità piuttosto limitata. Se utilizziamo un kit diagnostico presente in commercio il limite è di 25 mg, quindi capiamo che la probabilità di andare a trovare uno o più cisti in una quantità così limitata è insomma abbassa di molto la probabilità di trovare il parassita. Quindi appunto ovviamente di conseguenza una limitata quantità di target del nostro DNA e poi il problema di digerire o meno il tessuto muscolare. Ecco la digestione muscolare in questo caso consente la rottura della parete cistica e quindi la fuoriuscita di bradizzoiti. Dall'altro lato però questo determina che il nostro DNA che andiamo poi a deluire potrebbe portare con sé dei residui dissolventi che possono in qualche caso dare a fastidio alle successive reazioni di PCR. Se pensiamo poi ai metodi di identificazione di toxoplasma gondi nella carne non parliamo più di serologia ma di meat juice serology, quindi una serologia fatta su meat juice in cui l'organo di predilizione da cui si ricava questo meat juice è normalmente il cuore, che però non è sempre disponibile perché il cuore in molti casi come nel caso del suino viene venduto insieme alla carcassa quindi non sempre a disposizione. Dovremmo quindi utilizzare degli altri organi come ad esempio il diaframma ma in questo caso dovremmo andare a fare delle prove per vedere se la validità del test è simile a quella appunto dal meat juice ottenuto dal cuore. Può essere un buon metodo di screening ma comunque in ogni caso non abbiamo una risposta, cioè ci dice che il soggetto ha avuto un contatto con il parassita ma non sappiamo effettivamente se il parassita è presente. Per quanto riguarda invece la PCR, i limiti che vi ho descritto appunto poco fa che ovviamente possono portare allo sviluppo di falsi negativi. In entrambi i casi comunque quello che noi abbiamo è che possiamo indicare la presenza del parassita ma non sappiamo se il parassita è vivo e vitale. A questo proposito una serie di ricercatori, un gruppo di ricercatori molto importanti ha tentato di sviluppare una tecnologia che potesse un po' bypassare questo problema. Nel 2010 ha pubblicato questo primo lavoro che descrive questa nuova tecnica che si chiama Magnetic Capture. La Magnetic Capture ci consente innanzitutto di utilizzare un buon quantitativo di materiale iniziale, quindi 100 grammi, e grazie all'utilizzo di appunto questa cattura magnetica, di questo sistema di cattura, va a catturare appunto delle sequenze specifiche di DNA e poi si va a fare una PCR realtà in quantitativa. Questo ha migliorato di molto la sensibilità e la specificità del metodo, ha una buona resa, metodica che poi è stata migliorata negli anni, tant'è che infatti nel 2017 ha portato ad essere validata secondo norma ISO, perché i ricercatori hanno appunto dimostrato che non c'era cross-reattività, quindi con altri parassiti, non c'era l'effetto matrice, quindi che partessimo dal cuore piuttosto che dal diaframma non c'è differenza nella risposta. Abbiamo una specificità del 100% col bioasse e addirittura una sensibilità superiore al bioasse, quindi sembrerebbe insomma che abbiamo trovato la tecnica ideale. In realtà purtroppo non è così, perché questa tecnica ovviamente almeno per il momento è molto laboriosa, è molto dispendiosa, servono comunque dei laboratori attrezzati e sicuramente non può essere utilizzata al macello come test rapido, che sarebbe appunto il sogno di tutti noi. Come facciamo però quindi in effettivamente avere della carne toxo-free? Allora, innanzitutto possiamo lavorare a livello di allevamento, se lavoriamo a livello di allevamento, come dicevamo prima, quello che noi possiamo fare è andare a rimuovere i gatti dall'allevamento, possiamo eventualmente vaccinarli, ma al momento non abbiamo vaccini disponibili, quindi questo insomma resta un po' trova il tempo che trova. Possiamo invece al contrario, ad esempio utilizzare, pensare di utilizzare... Oddio, scusate, devo riprendere il controllo. Ok, quindi diciamo possiamo pensare di utilizzare per esempio solo acqua potabile, quindi non acqua da dei serbatoi di accumulo, ma acqua che deriva dall'acquedotto, o ancora utilizzare dei mangimi che siano certificati toxo-free, anche solo semplicemente perché magari hanno subito trattamenti termici, per cui di toxo non c'è. Si può ovviamente pensare a vaccinare gli animali, abbiamo un vaccino ad esempio per le pecore, questo insomma ha dato dei buoni risultati nel tempo, fare dei programmi ovviamente di informazione, ma la cosa principale sicuramente da tenere in considerazione è il fatto che finché gli animali non hanno un contatto con roditori, con gatti e con l'ambiente esterno, sicuramente di toxo non c'è. E da qui ritorniamo un po' al discorso iniziale, quindi l'allevamento intensivo con delle gran misure di biosicurezza e che ovviamente però presenta dei problemi dal punto di vista del benessere animale. Dall'altro lato invece noi abbiamo un allevamento in tipo biologico, quindi all'aperto, che consente agli animali quindi di stare bene, quindi in cui viene garantito il benessere animale, però ovviamente con tutte le problematiche che ne conseguono, quindi l'animale che può venire a contatto con patogeni, fra cui anche toxo. La questione però ovviamente dell'allevamento intensivo non può essere risolta, cioè diciamo così non può essere applicata ovviamente ad animali come le pecore, le capre piuttosto che i cavalli e ovviamente anche agli animali selvatici. Io non riesco più ad andare avanti con la presentazione però, non so se è stato un blocco. Ok, scusate. Oppure possiamo lavorare, come dicevamo, possiamo applicare le post harvest measures e quindi in questo caso pensare eventualmente di lavorare a livello di macello, quindi come ipotizzavamo prima, eventualmente l'utilizzo di una midjuice serology a livello di macello, quindi facciamo una serologia sul midjuice con pezzetti di carne e alcune carcasse, quelle che risultano negative la carne potrebbe essere venduta come toxo free meat. Qui ovviamente abbiamo sempre il problema del cuore che molto spesso non è disponibile e il costo che insomma rischia di diventare un costo elevato perché pagliamo circa 2 euro a campione. L'ideale ovviamente sarebbe, come dicevo prima, avere un test rapido che consentisse con una buona specificità e sensibilità di individuare quelle carcasse che sono effettivamente toxo free. Poi possiamo ovviamente lavorare sulla questione della cottura di cibi e del congelamento dei cibi e ovviamente anche attenzione alle cross contaminazioni in cucina. Come facciamo quindi effettivamente noi a decontaminare ovviamente una carne che presenta toxoplasma gondi? Sicuramente possiamo applicare dei cicli di congelamento e scongelamento, l'irradiazione funziona molto bene, la cottura ovviamente che deve tener conto però anche delle dimensioni della carne, del suo spessore e anche della tipologia di carne che è perché come abbiamo visto prima, sicuramente la carne di pecore e di capra risulta essere più a rischio e quindi ovviamente ricerciterà di una cottura più prolungata. C'è poi il sistema dell'HPP, dell'High Pressure Processing, di cui vi parlerò a breve, e poi tutta la questione della stagionatura di alcuni prodotti attraverso l'utilizzo di sale ad esempio. A questo proposito però vorrei porre la vostra attenzione sul fatto che effettivamente il sale non basta, nel senso che è stato dimostrato che il sale e il processo produttivo del crudo di Parma sono in grado effettivamente di inattivare il parassita, cosa che invece non sono riusciti a dimostrare in Spagna. Quindi entrambi i prodotti utilizzano delle concentrazioni di sale importanti, ma i processi produttivi sono completamente diversi, tant'è infatti che nel prosciutto spagnolo effettivamente i toxoplasma gondi l'hanno trovato anche dopo diversi mesi di stagionatura. Vi dicevo prima dall'HPP un brevissimo focus. L'HPP è una tecnologia che si è sviluppata molto negli ultimi anni, è una tecnologia che prevede una pastarizzazione a freddo, che utilizza delle altissime pressioni idrostatiche e che è in grado di inattivare quella che è la flora vegetativa presente sugli alimenti, aumentandone di tantissimo la shelf life. Ecco, è stato dimostrato che HPP è in grado di intervenire e di neutralizzare i toxoplasma gondi sia cisti che ocisti. Serve però ovviamente una pressione piuttosto alta di circa 300 megapascal per qualche minuto, anche 10 minuti abbondanti. I problemi legati a questo tipo di tecnologia, che potenzialmente potrebbe risolvere tutti i nostri problemi, è legato al fatto che innanzitutto tende a sbiancare la carne, quindi con un evidente problema per il consumatore, a cui può non piacere la carne, diciamo così, sbiancata. Dall'altro lato abbiamo fatto comunque per ora un trattamento di HPP ancora piuttosto costoso, non sappiamo effettivamente come si comporta HPP nei confronti di prodotti un po' più complessi, quindi un salame, un prosciutto, che non sia quindi la semplice fettina di carne, e dobbiamo anche ipotizzare che ci potranno essere magari delle possibili restrizioni in posto della legislazione in un prossimo futuro. 5 minuti Alice. Grazie. Quindi quali rischi possiamo andare a considerare per il futuro? Allora sicuramente quelle che sono le preferenze del consumatore influenzano molto il mercato e possono porre un rischio per quanto riguarda il contatto appunto con Toxoplasma Gondi, quindi la tendenza a consumare carne cruda, la tendenza a volere carne e prodotti che derivano da animali allevati all'aperto, e poi appunto come diceva prima la professoressa Gian Gaspero, la tendenza a mangiare prodotti freschi, magari anche non lavati benissimo, e anche appunto mitili e prodotte appunto di questo genere, che impongono ovviamente un rischio per quanto riguarda Toxoplasma. Altro fattore molto importante, e quindi ritorno alla prima slide, cioè ogni giorno vengono importate ed esportate in tutto il mondo tonnellate e tonnellate di carne. Ecco, questo fa sì che ovviamente si sia carne e prodotti che derivano da paesi, che hanno una legislazione sulla sicurezza alimentare molto diversa rispetto alla nostra, c'è il problema di questi genotipi atipici che si trovano in particolar modo in aree tipo il Sud America, piuttosto che il Sud Est Asiatico e in Africa, che potrebbero arrivare quindi anche nel nostro continente, dove invece noi abbiamo prevalentemente il genotipo 2 e il genotipo 3, quindi quelli a bassa virulenza, quindi diciamo così rischio futuro, in realtà è un rischio molto presente, che insomma andrebbe valutato forse con un po' più di attenzione. E poi dobbiamo considerare rischi, sono rischi il fatto che noi in questo momento non abbiamo un sistema ispettivo che è in grado di individuare al macello la presenza di toxoplasma gondina nelle carcasse, non abbiamo delle tecnologie efficaci e rapide che ci permettono in questo momento di dire che un prodotto è effettivamente toxofree e nel caso di Outbrax non siamo in grado di definire qual è la provenienza di quel determinato toxoplasma, nel senso così come per i batteri noi possiamo fare una tipizzazione, ecco in Europa ne abbiamo dei tipi di toxoplasma che sono tutti molto simili fra di loro, è una popolazione clonale molto simile, quindi definire che un determinato Outbrax sia causato dai mitili che vengono dalla Puglia piuttosto che dalla carne che viene dalla Francia è molto difficile da definire. Quindi quali misure possiamo applicare, visto appunto quelle che abbiamo appena citato, sicuramente il test serologico può essere utile, ma solamente si è applicato su quegli animali in cui c'è una buona correlazione tra la serologia, una serologia positiva e la presenza di cisti. Possiamo pensare a questo punto di utilizzare lo screening serologico non tanto al macello quanto piuttosto nelle produzioni primarie e quindi già qui screenare magari quei gruppi di animali che sono più a rischio. Per quanto riguarda i piccoli ruminanti, dicevamo il controllo a questo punto va fatto non a livello di allevamento, ma dopo perché a livello di allevamento, a parte l'utilizzo della vaccinazione è praticamente impossibile e per quanto riguarda la carne di manzo, sicuramente carne di manzo è consumata cotta. Quindi da qui il richiamo anche di EFSA, della necessità di sviluppare anche dei nuovi metodi diagnostici che ci permettono di definire una carne o un prodotto alimentare che sia effettivamente toxofree senza far utilizzo di animali. Questa è sicuramente una research priority che ha definito anche EFSA nel suo ultimo report. L'ultima provocazione che vi faccio è effettivamente toxofree meat ci può essere una certificazione per alcuni prodotti, per alcune categorie. Per esempio si può pensare di avere una certificazione per gli allevamenti nel caso in cui questi non abbiano la presenza di gatti o di roditori. Per quanto riguarda i cibi, anche qui una certificazione per quei cibi che sono naturalmente privi di toxoplasma gondi perché sottoposti ai trattamenti che lo inattivano. Anche qui servirebbero probabilmente dei programmi di controllo a livello governativo andrebbero implementati anche per la ricerca di toxo soprattutto in quei paesi che hanno una catena comunque ben organizzata e poi di nuovo la necessità di avere questi benedetti test. Concludo quindi dicendo che effettivamente la carne toxofree in realtà esiste ed è la carne che è congelata. Quindi vi rigiro la domanda dell'inizio la carne toxofree esiste la carne toxofree esiste ma sicuramente non è la carne cosiddetta fresca. Io ho concluso, vi ringrazio e ringrazio ovviamente tutti i collaboratori che hanno lavorato con noi in questi anni che ci hanno permesso di fare le nostre ricerche. Vi ringrazio. Perfetto Alice, grazie. Grazie Alice. C'è un commento da parte di Fabrizia Veronesi che scrive scusami Fabrizia è qua a livello di produzione primaria importantissima risulta anche il contenimento della pressione muscina. Fabrizia? Fate vedere. Sì, buonasera a tutti. Sì, ci sono numerosi lavori che definiscono come importante fattore di rischio soprattutto negli allevamenti intensivi dei suini la pressione muscina soprattutto la musca domestica la musca domestica per la sua natura sia coprofaga che polifaga e anche proprio per diciamo così l'assetto del suo scheletro che è ricco di diciamo di peluri attende facilmente a trattenere oocisti e quindi a trasportare spesso le oocisti da un contesto all'altro peraltro è anche stata più volte documentata così per TOXO così come per altri per altri similcocidi tipo criptosporidium il trasporto di queste oocisti anche al di fuori di allevamenti intensivi ti risulta? sì, 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 assolutamente anzi grazie che probabilmente mi è sfuggito nella presentazione quindi aggiungiamo assolutamente la mia considerazione sì, tendiamo a sottovalutare questi vettori meccanici che poi fra l'altro anche come hai detto tu in altri problemi di altri parassiti svolgono un ruolo molto importante grazie Fabrizia d'ammiro ok, non vedo altre domande per Alice grazie Alice e adesso invito Ezio Feroglio che ci porta nel Wild West TOXO non vedo l'ora Ezio, grazie è tutto tuo grazie a tutti voi per avermi invitato sarò rapidissimo parto dall'inizio dalla storia di TOXO da Nicole ma anche da da questa cavia che tenodactilos gondi che dà proprio il nome a TOXOPLASMA gondi questo per dire che comunque la presenza di TOXOPLASMA nei selvatici è stato un problema vissuto già in passato anche se erano cavie allevate ma probabilmente si portavano dietro il parassita perché TOXOPLASMA come già stato detto è un parassita molto distribuito e anche molto abbondante nel nel mondo questi sono tutti i felidi selvatici che sono stati riconosciuti come ospiti definitivi per TOXOPLASMA quindi sono moltissimi se andiamo a guardare molti di questi vivono in Sud America e questo poi ci darà ci aiuterà forse a capire anche alcune cose ma questo elenco lunghissimo è nulla rispetto all'elenco lunghissimo di specie che possono agire da ospiti intermedi perché praticamente come sappiamo tutti i vertebrati a sangue caldo sia domestici che selvatici possono agire come ospiti intermedi e quindi parliamo di un parassita che nei selvatici è presente è molto distribuito se andiamo a vedere quello che emerge è che però gli studi sono poi alla fine concentrati in poche aree soprattutto gli studi che riguardano la presenza dei genotipi è una cosa interessante e ad occhio non ci sono purtroppo dei dati che ci permettono di fare delle valutazioni epidemiologiche e statistiche con dei dati matematici che confortino quest'idea ma se andiamo a vedere vediamo che effettivamente dove maggiore è la ricchezza di felidi selvatici maggiore anche la biodiversità dei ceppi di toxoplasma mentre invece dove il numero di ospiti definitivi è ridotto e imitato in molti casi fondamentalmente al gatto domestico il numero di genotipi presenti è invece ridotto sarebbe interessante ma purtroppo mancano dati sulla genotipizzazione in altri ambienti dove è ricca la presenza comunque di fedi di silvestri come per esempio l'Africa ma anche tutto il subcontinente indiano e il sud-est asiatico però indubbiamente questo una delle prime cose che ci possono dire il toxoplasma e i selvatici e che sono indicatori comunque anche di una buona biodiversità tanto più si riduce la biodiversità negli ospiti presenti soprattutto in questo caso negli ospiti definitivi dove c'è la riproduzione sessuata tanto più si riduce anche la biodiversità in toxoplasma se andiamo a vedere qual è la nostra situazione ho preso questi dati ma giusto perché li conoscevo ci abbiamo lavorato vediamo che da noi la prevalenza è molto alta nei carnivori quindi nella volpe ma è ovvio l'infestazione avviene per l'ingestione di prede infestate è comunque molto alta anche negli onnivori quali i cinghiali con una prevalenza non molto di forme da quella della volpe e poi è molto bassa o quasi inesistente negli ungulati e si va da un 2 e 5% quasi del capriolo all'assenza di toxoplasma in camosci e cervi questa differenza dicevamo il capriolo è sicuramente meno infestato del cinghiale per le differenti abitudini alimentari il capriolo si può infestare ingerendo delle ocisti presenti o nell'acqua o sul suolo o nell'erba e quindi la prevalenza negli animali erbivori ci può essere anche un utile indiretto indicatore della contaminazione da parte degli alimenti dei vegetali o da parte di ocisti di toxoplasma mentre invece la prevalenza è significativamente più alta nel cinghiale proprio perché il cinghiale oltre a questa fonte di infestazione ha anche la possibilità di ingerire cisti tessutali con ibradizzoiti qual è la prevalenza in due specie importanti in Europa molto distribuite ha fatto questa meta-analisi Angela questi sono i dati sul capriolo questi sono i dati sul cervo e vediamo che in Europa la sieroprevalenza tutto sommato è abbastanza alta vedete che mediamente è superiore al 25% ma si discosta poco da questo valore è comunque sempre tendenzialmente superiore al 20% anche considerando gli intervalli di confidenza non si scende mai al di sotto del 15% diverso discorso e invece per il cervo dove la media della prevalenza è molto più bassa perché si attesta attorno al 17% quasi 5 punti in percentuale in meno e vedete che anche in molte aree vi sono anche dei valori che scendono con un intervallo di confidenza che sfiora il 10% la differenza fra queste due specie può essere legata a una differente suscettibilità è vero che sono due specie di cervidi ma uno un cervine l'altro il capriolo e uno doicoleine quindi hanno un diverso metabolismo quindi hanno anche una diversa probabilmente suscettibilità ad alcuni parassiti e questo potrebbe essere la causa la spiegazione per questi dati per toxoplasma ma l'altra spiegazione potrebbe essere semplicemente legata alle abitudini il capriolo è una specie di ecotono quindi vive benissimo anche nei prati negli ambienti vicino alle abitazioni qua ci sono 14 caprioli in questo prato davanti a questa casa il cervo invece è una specie che ama di più il bosco le praterie aperte e quindi evidentemente è più facile per un capriolo ingerire delle ocisti perché sicuramente in questo prato ci sono sicuramente dei gatti che possono andare a defecare diverso il discorso sarebbe invece per i cervi che vivono a quote più alte in altre parti della valli e quindi hanno meno probabilità di incontrare le ocisti quindi questo è un aspetto interessante ed è legato la diversa presenza di ocisti non solo alla diversa presenza di ospiti intermedi ma anche alla possibilità delle ocisti di sopravvivere sempre dalla metanalisi quello che emerge è che la prevalenza è mediamente più alta fino al 40% nell'Europa occidentale che è un'area tutto sommato fresca ma umida si riduce un po' nel nord Europa che è comunque un'area fresca ma forse un po' meno umida rispetto all'area atlantica scende ancora nell'Europa dell'est e raggiunge i valori più bassi nei cervidi nell'Europa meridionale dove evidentemente le condizioni soprattutto appunto nella parte più estrema più a sud sono sicuramente condizioni più calde ma soprattutto più secche e sappiamo che questo è sicuramente un fattore che diminuisce le chance di sopravvivenza delle ocisti presenti nell'ambiente abbiamo visto quali sono le prevalenze di toxoplasma ma quali sono anche banalmente i ceppi presenti quello che abbiamo visto in Piemonte c'è una nel nord ovest d'Italia o meglio c'è una forte prevalenza del genotipo 1 sono anche presenti ceppi del genotipo 2 ma sono la minoranza rispetto anche solo rispetto al genotipo 3 o agli atipici e c'è comunque una differenza fra i domestici e i selvatici nei selvatici c'è una maggior percentuale di genotipi atipici mentre nei domestici in questo caso hanno soprattutto suini prevale il genotipo di tipo 1 non è una novità perché già altri colleghi avevano trovato una forte prevalenza di genotipi 1 e 3 nei selvatici ma questo serve per dire quanto poco sappiamo e siamo andati avanti per anni a dire che in Europa era presente soprattutto il genotipo 2 perché ci si basava su dati che venivano da altre realtà mentre invece in Italia probabilmente la cosa è diversa ed è confermata anche da altri dati più recenti sia nei domestici che nei selvatici ma anche nell'uomo almeno nei pazienti immunocompromessi questo è la presenza di due cicli il ciclo domestico e il ciclo silvestre e come questi cicli possono sovrapporsi fra di loro perché quello che a noi interessa nella One Health è la possibilità di questa mutual transmission fra domestici e selvatici ed è chiaro che nel ciclo domestico il gatto è l'unico ospite definitivo il ciclo silvatico vede gatti selvatici o linci che sono i due grandi i due felidi presenti in Europa come ospiti definitivi ma questi sono poco presenti o del tutto assenti in una discreta parte dell'Europa quindi fondamentalmente in tutta Europa chi gioca un ruolo importante come ospite definitivo e quindi come ospite che è in grado di garantire di permettere la riproduzione sessuata resta solo il gatto domestico mentre invece i selvatici possono giocare un ruolo importante perché questi possono in qualche modo contribuire al mantenimento del ciclo da parte del del gatto domestico soprattutto i micromammiferi è chiaro che il gatto ma e questo è stato ampiamente dimostrato che si può infestare con micromammiferi o specie domestiche o specie comunque selvatiche che vivono nel cotono o con lagomorfi può infestarsi a questo punto eliminare o cisti che possono poi passare al ciclo domestico quindi agli animali domestici o anche eventualmente al ciclo selvatico mantenendo quindi l'infestazione anche in quest'ultimo è stato più volte citato il fatto che si è visto che toxoplasma altera il comportamento dei ratti che quindi non hanno più paura dei gatti ma evidentemente toxoplasma non fa differenza fra ratti e altri mammiferi uomo incluso e quindi non abbiamo idea di quali siano i cambiamenti e se ci sono a livello di comportamento delle specie selvatiche non sappiamo se qui hanno scritto capriolo ma è un cervo coda bianca non sappiamo se questo cervo coda bianca dalla vicinanza del gatto può trarre toxoplasma e se l'aver acquisito toxoplasma può in qualche modo interferire con il suo modo di vita con le sue aspettative di vita sappiamo però che toxoplasma non è a costo zero non è indifferente avere o non avere toxoplasma è stato prima citato il caso delle lontre marine sappiamo che in alcune aree si sono quasi estinte alcune popolazioni proprio a causa di toxoplasma ma sappiamo che toxoplasma può essere un problema anche nella fauna europea sappiamo che nelle lepri lepre europea nella lepre bianca toxoplasma può portare a una toxoplasmosi generalizzata e quindi può aumentare la mortalità di queste specie e sarebbe sicuramente interessante andare a vedere quanti provare a quantificare quanto la presenza di toxoplasma possa incidere su questi aspetti ma fra le specie che possono essere sensibili a toxoplasma giusto per il fatto che toxoplasma è presente nei selvatici c'è anche l'uomo quindi possiamo consumare carne di ungulati selvatici ma anche di carnivori ma possiamo consumarla anche banalmente solo perché andiamo a comprare i salamini all'Ikea o possiamo consumarla perché se è vero che siamo diventati meno consumatori di carne in generale è però aumentata in percentuale la proporzione di carne proveniente dagli animali selvatici in Austria il 9% della carne consumata è comunque carne proveniente dagli animali selvatici il numero di cinghiali abbattuti in Europa è di centinaia di migliaia e questo vuol dire tonnellate tonnellate di carne di cinghiale che finiscono o consumate cotte o finiscono per esempio in salumi e ci sono stati negli Stati Uniti delle segnalazioni in cui i cacciatori avevano avuto delle forme oculari di toxoplasmosi probabilmente dovute all'assunzione di carne di cervo coda bianca assunta cruda ma giusto per darvi un'idea cercando sagra del cinghiale su Google sono saltati fuori più di 345 mila risultati in buona parte delle nostre aree rurali ci sono oramai sagra del cinghiale e l'abitudine l'uso la consuetudine al consumo dei salami di cinghiale è aumentato tantissimo non un rischio solo per toxoplasma come sapete abbiamo avuto in Piemonte un focolaio anche di trichinellosi l'inverno scorso però indubbiamente questo rappresenta per la salute umana un rischio che la presenza di toxoplasma nei selvatici ci deve portare a considerare 5 minuti perfetto il problema di valutare la presenza di toxoplasma nei selvatici è un problema che abbiamo visto essere già difficile negli animali domestici essere già difficile e complicato nell'uomo ma è ancora più difficile nei selvatici perché perché ci sono molte specie c'è difficoltà ad avere dei campioni spesso si riescono ad avere solo alcuni tipi di campioni è difficile avere del siero ancora più difficile avere del siero di buona qualità e questo ha portato negli anni per esempio a far sì che come in questo progetto europeo dove collaboravano praticamente tutti coloro che lavorano sulla fauna in Europa siano state sviluppate delle carte diagnostiche e fra i vari patogeni che sono stati scelti c'è stato anche toxoplasma con tutta una serie di raccomandazioni e raccomandazioni anche sui test da utilizzare perché ad oggi diventa veramente difficile confrontare i dati ottenuti da ricercatori in laboratori diversi perché ogni laboratorio utilizza metodiche diverse matrici diverse e quindi spesso è impossibile confrontare i dati ottenuti nelle diverse realtà per cercare di chiarire un po' quale può essere effettivamente l'epidemiologia di questo parassita nella fauna a vita libera e banalmente è già stato citato anche prima ma l'uso di alcune tecniche come la lamp potrebbe essere di grande aiuto perché comunque sono tecniche meno costose rispetto magari alla PCR tradizionale e dobbiamo pensare che il numero di campioni da testare è tendenzialmente molto alto ma oltre alla validazione delle diverse tecniche nei selvatici dovremmo pensare anche a validare i tessuti banalmente anche prima Alice diceva io vado a cercarlo ma in quali tessuti lo vado a cercare e vediamo banalmente che per parassiti diversi non c'è un tessuto di preferenza e per esempio per toxoplasma posso cercarlo nel muscolo scheletrico ma lo posso trovare anche nel cervello e se avessi utilizzato solo una di queste due matrici mi starei perso due casi nel caso del cervello o un caso nel caso di un utilizzo del muscolo scheletrico un dato interessante e secondo me nella stessa zona da cui sono stati analizzati gli ungulati e i carnivori che abbiamo visto prima dove abbiamo detto il capriolo una prevalenza attorno al 2,5% possiamo vedere che la mini lepre il cotton tail ha una prevalenza comunque del 2,1% quindi una prevalenza molto simile e questo ci fa pensare che effettivamente questo possa essere un indicatore di quella che è la contaminazione dell'ambiente da parte delle ocisti toxoplasma è estremamente utile perché nel concetto di one health non ci mettiamo solo la salute dell'uomo la salute degli animali domestici o selvatici ma ci mettiamo anche l'environmental health la salute dell'ambiente e toxoplasma è sicuramente un buon indicatore della salute dell'ambiente perché come hanno dimostrato in questo lavoro tanto più l'ambiente è vario e c'è un'alta abbondanza di specie ospiti intermedi tanto più può circolare toxoplasma nell'ambiente e negli ospiti negli animali predatori quindi toxoplasma può essere indirettamente anche un buon indicatore di salute dell'ambiente o meglio di un ecosistema complesso che prevede interazioni fra più specie e un aspetto interessante chi ha eradicato i gatti da quelle isole in in California nel golfo della California poteva avanzarsi il lavoro perché per esempio a Monte Cristo dove non ci sono gatti non sono presenti né toxoplasma né ospora questo è un aspetto interessante perché al contrario in altre aree artiche anche in assenza di ospiti definitivi come per esempio le svalbard toxoplasma è in grado di mantenersi perché ci sono comunque dei predatori sia terrestri che acquatici e questi probabilmente riescono a far circolare il parassita che è portato dagli uccelli migratori Monte Cristo è un'isola utilizzata dagli uccelli durante la migrazione ma probabilmente l'assenza di carnivori di medie dimensioni di carnivori in generale direi crea una situazione per cui anche i ratti da soli non sono in grado di mantenere il parassita come inviene invece per altri protozoi come per esempio l'esmania e un altro aspetto importante un'altra lezione che i selvatici potrebbero aiutarci a capire per quel che riguarda toxoplasma è veramente l'origine di toxoplasma l'albero filogenetico ci dice moltissimo ma cercare di capire come si comporta toxoplasma quali sono state le strategie di vita di toxoplasma qua vediamo nei selvatici in capriolo in cinghiale in volpe la trasmissione verticale di neospora dalla madre ai feti e potete vedere che quello che abbiamo notato è che c'è una trasmissione molto molto alta perché l'83% dei feti da madri positive sono a loro volta positivi sia per il capriolo che per il cinghiale e questa percentuale raggiunge addirittura il 100% nel caso della volpe sappiamo che non è così per toxoplasma toxoplasma sicuramente ha scelto una strategia di trasmissione di trasmissione che è diversa dove non è così prevalente non è così importante lo si diceva anche prima per l'uomo la donna siropositiva non è a rischio ma neospora invece ha fatto un'altra scelta in neospora sappiamo non solo nel domestico e questo potrebbe essere dato banalmente alla pressione selettiva dell'uomo l'attività e l'interferenza umana nella selezione genetica ma abbiamo visto anche in natura invece c'è una fortissima trasmissione di toxoplasma dalla madre al fetto attraverso la placenta e quindi toxoplasma potrebbe veramente aiutarci a capire come può avvenire questo e questo dato potrebbe essere molto utile anche per sviluppare magari un giorno un vaccino protettivo nei confronti dell'uomo quindi direi che per un parassitologo alla fine dell'arcobaleno non c'è una pentola d'oro ma sicuramente toxoplasma può essere dello stesso valore perché è un parassita che ci permette di lavorare su moltissimi aspetti e ci permette veramente una serie di integrazioni che la One Health oggigiorno ci richiede grazie per la pazienza meraviglioso grazie ascolta vedo una domanda c'ho un rimbombo terribile vedo una domanda da Pieranda Martino ma la UPA la UE non dà indicazioni su quali matrici indagare nei serpatici? sì ci sono indicazioni il problema banalmente e avere siero di alta qualità il siero o lo si ottiene da un animale in vita e allora si riesce a processare il sangue in maniera opportuna o ottenuto da un animale morto per esempio abbattuto durante l'attività venatoria si ha emolisi quindi a quel punto diventa veramente difficile poter utilizzare il campione tant'è che in moltissimi casi si è passati all'utilizzo di spremuto di muscolo o di spremuto polmonare per vicariare a questo problema ok grazie mille volevo ricordare a tutti grazie mille grazie mille